È un vero e proprio omicidio della democrazia perché crea un Parlamento fatto di nominati e non di eletti dei cittadini dove un capo, in questo caso Renzi o Berlusconi, decide e dà potere sui parlamentari e di conseguenza sul Paese. Non ci sono le preferenze e di conseguenza i cittadini ed il voto dei cittadini vale zero. I cittadini non contano nemmeno al momento del voto.